Musica Bentornati all'appuntamento con l'informazione di Piave TV Oggi un piccolo approfondimento con due rappresentanti delle aziende, delle imprese e dell'artigianato locale Ve li presento subito Per Ascom abbiamo Luigi Fontanello, grazie per essere tornato a trovarci Grazie a voi E invece per Confartigianato abbiamo Fabio Ferrazzo Grazie Ben arrivati Allora, tutti immagineranno che noi oggi parliamo di imprese, di aziende, di eventi, di commercio, di artigianato E in realtà no, questi due rappresentanti oggi parleranno di controllo del vicinato E qualcuno disse che ci azzecca il controllo del vicinato con Ascom per esempio Cominciamo con Luigi Fontanello Direi che ci azzecca è anche in maniera molto incisiva Per il fatto che ritengo che la sicurezza, visto che parliamo di sicurezza Sia alla base di qualsiasi rapporto Alla base del vivere in maniera serena, pacifica, civile E che quindi unisca proprio nell'ambito più ampio della cittadinanza Tutte le varie categorie, senza distinzioni di colori o di casacche o di quant'altro Perché ripeto, stiamo parlando di sicurezza La sicurezza è per tutti E questo è già una bellissima presentazione dell'argomento di oggi Fabio Ferrazio, parliamo appunto di sicurezza che coinvolge le imprese, le aziende, il commercio E anche l'artigianato Certo Noi abbiamo sentito anche da voi Sì Però noi ci sentiamo un po' in parte Diciamo perché come artigianato noi di aziende siamo un po' all'esterno diciamo di tutto Però abbiamo visto che c'è un interesse che bene o male si fa sentire di giorno in giorno Quindi appoggiati dai nostri amici dell'Ascom e in questo caso vi siete messi assieme Abbiamo visto i nostri risultati e quindi siamo contenti di questo Anche perché vediamo che la sicurezza bene o male ormai tocca tutti Un problema che riguarda anche le imprese artigiane Quindi è una cosa che sentiamo anche noi insomma Ecco, allora andiamo nel dettaglio con Luigino Che cosa state facendo assieme voi due con Fartigianato ed Ascom? Ma praticamente allora innanzitutto una premessa doverosa è che Noi riteniamo che proprio per il quieto e sereno vivere di una città Ci sia anche la necessità di dialogo costante e continua anche con le altre associazioni di categoria Assolutamente Perché non è che la Conf Commercio sia un qualche cosa di diverso Dalla Conf Artigianato piuttosto da qualche altra categoria Perché ciascuno di noi rappresenta i propri associati Ma ciascuno di noi rappresenta comunque dei cittadini del territorio Delle persone che operano nel territorio E quindi ritengo, riteniamo che sia doveroso creare dei dialoghi E nulla di meglio se vogliamo iniziare a creare un dialogo costruttivo Proprio in fatto di sicurezza Perché noi ci preoccupiamo, per scendere un po' nel dettaglio Magari anche della signorina della commessa del negozio Certo, voi avete una realtà Sì, che possono avere dei problemi di sicurezza Perché in prima linea, nell'esercizio Quindi immaginiamo sta povera ragazza che magari esce d'inverno Magari col buio, eccetera, l'estate e mezzo della sera Magari con l'incasso del negozio E si sente un po' a disagio Però riteniamo che questo tipo di disagi Li provino anche, non so, le impiegate o le commesse O quant'altro, le operatrici Anche nell'ambito artigianale Perché quando alla sera escono dal capannone nel quale operano Credo abbiano anche loro bisogno di trovare serenità e sicurezza Infatti passiamo adesso al mondo artigiano Infatti che non è una realtà tanto diversa Per quanto generalmente il mondo confcommercio sia un mondo in vetrina E il vostro magari più nelle retrovie Però i problemi, diciamo, di sicurezza sono uguali E sentiti anche da voi Questo è vero Anche perché forse anche maggiori Perché le piccole aziende artigiane Magari sono dislocate in zone In territori un po' più Esatto, in periferia Diciamo che forse la parte più esposta Forse è la parte commerciale, diciamo Lì, diciamo, vedrai la parte artigianale Diciamo che vogliamo essere tutelati anche noi Questo è vero Per essere tranquilli Proprio per ritornare a casa tranquilli alla sera Perché giustamente dopo una giornata di lavoro Quindi hai bisogno anche di essere C'è il pericolo, diciamo, che Sì, uno possa essere aggredito Ma anche nella propria azienda artigiana Da noi non è mai successo Quando esce dal lavoro Però almeno io non ho dati che E questa è una bella cosa E questa è una bella cosa Però non è mai È sempre meglio prevenire Che doversi trovare di fronte al fattaggio Quindi aspettiamo che ci sia Qualche interesse maggiore Perché comunque, devo dire, l'interesse c'è E speriamo che questa cosa possa andare in porto Magari stiamo facendo qualche incontro Organizzativo Per capire meglio come svolgere questa attività Come si può dire Da dialogare con tutti E spiegare bene con tutti E avere questi riscontri Queste risposte Diciamo anche da queste persone Che magari chiedono qualche aiuto in più Certo, il mondo artigiano Come vede appunto il pericolo della sicurezza Che molto spesso è minata E come vede la proposta appunto Di collaborazione e controllo del vicinato? Beh, tutti sono contenti di questa cosa Solo che, torno a dire Forse noi la viviamo marginalmente Tutto qua perché magari chiusi in una fabbrica Non siamo esposti all'esterno come le commesse Come questi titolari di negozio Che sono proprio esposti lì Fuori sul marciapiede Diciamo così Certo Però noi chiudiamo magari Forse un po' prima Andiamo a casa Qualcuno magari ritarda Ma non è detto che magari questo Possa Come si può dire Non aiutare noi Che magari qualcuno Che arriva tardi la sera Perché qualcuno può far tardi il lavoro Certo Certo Lo sappiamo Lo sappiamo Che ci sono artigiani Che lavorano anche 14 ore al giorno Perché è dura Ma spero Poteva dire Non so Dico Luigino Nel dettaglio Che cosa pensate di fare? Allora innanzitutto Una piccola premessa Siamo partiti con l'organizzazione di una serata Che si è svolta presso Leonardo da Vinci Noi abbiamo anche qualche ripresa Se riusciamo a recuperarla Magari mandiamo in onda E quello diciamo è stato il punto di partenza Nel quale con il patrocino Tra le altre cose dell'amministrazione comunale Giustamente Che ci ha concesso anche lo spazio Abbiamo voluto organizzare In accordo con la ConfCommercio Con il quale ci siamo dialogati Per l'organizzazione della serata E abbiamo voluto E con l'attenta e adeguata Tecnicamente anche preparata Regia del signor Walter Codognotto Che in quel caso Che è uno storico del controllo del vicinato Perché ricordiamo che è stato proprio Walter Codognotto A portare questa idea nel San Donateso Un paio di anni fa ancora L'inizio con lui anche presso la nostra associazione La ConfCommercio Si è rappresentato il signor Codognotto Insieme con il signor Cicogna Raimondo Se non ricordo male il nome Se non correggetemi se sbaglio Che tra le altre cose fa parte della polizia locale A maggior ragione anche persone attitolate In tale ambito E ci hanno illustrato Quali potrebbero essere i benefici Arrivati da esperienze di controllo del vicinato Fatto in forma privata Cioè con le famiglie eccetera Però un modello che potrebbe essere esportato Anche al settore del commercio E dell'artigianato Per ripeto Nell'ambito della sicurezza generale Quindi questo è un primo incontro che avete avuto Il primo incontro che poi è servito appunto Per sentire le nostre opinioni in generale Nostre di ConfCommercio come quelle di ConfArtigianato Sentire delle esperienze vissute in prima persona Da parte di organi di polizia delle zone limitrofe Se non ricordo male C'era una testimonianza di un organo di polizia trevigiano Se non ricordo male E comunque poi gli esempi potrebbero essere citati Sono innumerevoli Perché ormai questo controllo del vicinato E effettivamente sta crescendo Direi in maniera imponente Ecco appunto Riprendendo quello che dice Luigi A proposito della prima serata conoscitiva La prima serata di incontro Diverse le testimonianze Certo perché hanno portato A conoscenza di alcuni fatti Che giustamente noi per fortuna Non ne siamo a conoscenza Ma sono successi a Treviso Che hanno avuto dei furti in negozi E tramite il controllo del vicinato Sono risaliti a questi ladri Che hanno rubato in questi negozi E funziona bene questo controllo del vicinato Penso che anche a livello di artigianato Se ti succede qualcosa in azienda Avendo un numero Certo Di riferimento Di riferimento Lo puoi chiamare E dire io ho avuto questo Questo controllatemi Si si sale Insomma se c'è Questo aiuto tra persone Secondo me è una cosa molto utile Anche a livello cittadino Perché Sì umano Anche direi che è un ritornare Un po' all'aiutarsi Alla solidarietà Ci dobbiamo difendere Un po' da queste cose Da questi eventi Che ormai fanno parte Di tutti i giorni E quindi Magari Senza portare a gravi conseguenze Magari Riusciamo a controllare Questi piccoli furti Queste cose Che possono succedere Che speriamo siano sempre Cose di piccola entità Insomma Assolutamente Che non ci siano Danni fisici Verso le persone Dicevo appunto con Fabio Un modo anche di ritornare Ad aiutarsi Assolutamente Non è fare Diciamo la spia Guardare dalla finestra Dal buco della serratura Ma è forse Un stare attenti E partecipare Anche più attivamente Alla vita del proprio territorio Certo Ma in effetti Io ho avuto modo anche Di scambiare Così Un paio di parole Anche Ancora a suo tempo Quando Walter Colognotto Insieme con Raimondo Cicogna Vennero a presentarci Il progetto In confcommercio Ho avuto modo Di scambiare Delle opinioni Con loro In quell'occasione Successivamente Anche in occasione Dell'ultima riunione Fatta qua da Vinci Ho avuto modo Di scambiare due parole Ulteriori Con Walter Codognotto Nonché anche Con il comandante Dei carabinieri Perché è preciso Che quella sera Era presente anche L'arma dei carabinieri Nella persona Del comandante Del capitano E quindi Dico anche Una persona Di certo riferimento Per quel che riguarda La sicurezza E praticamente Alla fine Siamo arrivati Al punto Di dire Che questo Sistema di controllo Avvicinato Potrebbe essere Concedetemi il termine L'occhio lungo Delle forze armate Delle forze istituzionali Perché in realtà Poi A noi Comuni cittadini Non è che venga richiesta Un'azione di intelligence Nel modo più assoluto E nemmeno Dobbiamo rincorrere Con armi alla mano Il lavoro Assolutamente Non diventerà neanche La caccia alle streghe Assolutamente Dobbiamo Secondo me Invece Fare rete Per cercare Di prevenire Questi episodi Perché se per caso E questo per questo Mi dico Non solo nel centro cittadino Dove ci sono i negozi Ma anche nelle zone artigianali Se qualche artigiano O gli impiegati O gli operai O le commesse Notano qualcosa Di sospetto Di strano Una vettura Mai vista Che continua a gironzolare Avanti e indietro Cioè non è detto Che quella Ci sia una persona Che sta cercando Dove andare Indubbiamente Tipo la sottoscritta Che si perde Anche a San Dona di Piave Può succedere Un giorno o l'altro Mi segnaleranno Al controllo del vicinato Perché il giro Ma non è detto Che ci sia anche Vabbè però Poi vengono fatti Dei controlli Voglio dire Anche se ha una persona Che si è persa Si è smarrita E magari si aggira Con fare sospetto La segnalazione Non vuol dire Di certo Diciamo Che è una persona Esatto Viene controllato Esatto Ma non Sì Poi chiaramente Si conveniva Anche con Il comandante Carabinieri Nonché con Le altre forze Dell'ordine Presenti Che ovviamente In talunne situazioni Ci sono anche Dei falsi allarmi Magari delle telefonate Anche inopportune Perché non è che Vediamo una persona Che si ferma Perché Non so Appunto Vi dico Io l'altro giorno Stavo cercando Un campanello E non lo trovavo E li stavo facendo Tutti 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 Potrebbero aver pensato Che cercavo Chissà cosa Ecco Quindi a volte Le segnalazioni Meglio una segnalazione In più Che una in meno Ecco Dopo però Bisogna Giustamente Come rappresentavano Anche loro Nell'occasione Della serata Valutare Questo tipo Perché Se come Tu in quel giorno Che stavi Cercando un campanello Che non trovavi Sono una nota criminale Ma non eri però Con un cappuccio Con il volto Travisato Al buio Lo so Però guardate Che insomma Magari a volte Sono le persone Più per bene Quelle che Che non dessano sospetto Che poi Che poi fanno Quindi Si l'apparenza A volte Inghanna Quello che abbiamo detto Precedentemente Atreviso I ragazzi Erano ragazzi Da firma E non hanno Dato niente Di sospetto No Assolutamente L'abito Non fa mai Direi che L'atteggiamento Di confartigianato Mi piace Nel senso che dice Non mi è mai Successo Non abbiamo dati Per quanto invece Voi ne abbiate Perché le commesse Sono molto colpite Purtroppo Però È il giusto Atteggiamento Del Diciamo Non è che Perché non mi è capitato Non potrà mai Capitarmi E quindi C'è sempre una prima volta Esatto Speriamo Ma Però c'è sempre Una prima volta Quindi noi siamo E l'attenzione A volte Evita appunto Siamo affiancatori Dell'idea Diciamo Di questa iniziativa Quindi vogliamo Eserci anche noi Siamo Ben lieti Insomma Di poter Proseguire Queste Queste Riunioni Da mettere Giù sul piatto Per dire Di tutto Quello che si può fare E così la gente Almeno capisce Che c'è Un beneficio Un bene finale Sì Un essere sempre Attenti Adesso come procederete Luigi Allora adesso procederemo Che sicuramente Visto che noi Come Confcommercio Abbiamo Divulgato E l'abbiamo fatto Porta a porta Negozio per negozio Una scheda informativa Per il controllo Avvicinato E un modulo Di adesione Avete fatto anche voi Con le aziende Con le Intrese artigiane Sì Nel senso che Abbiamo qualche nostro Associato Che comunque È stato Sì Va bene Insomma Siete partner In questa cosa Quindi non ha importanza Esatto Abbiamo distribuito Attualmente Circa 200 Informative E richieste Di adesione Ad oggi In seguito Alla riunione Che si era svolta Verso la fine Del mese di marzo Se non ricordo male Quindi A distanza di un mese Un mese e mezzo Di distanza Siamo riusciti Già a raccogliere Circa Una novantina Di adesione Ma direi che è buono Direi buono Direi buono Volevole Anche perché poi Credo che questa Maggiore adesione Possa anche venire Con il Il Pur parlay Cioè Io informo te Che tu informi lui E quindi fare La cosiddetta rete Tra di noi A questo punto Diciamo Un'adesione Tira l'altra Esatto Ma credo sia poi Alla base dello spirito Di questo controllo De avvicinato Si basa su questo Il controllo avvicinato Si basa su questo Si basa sui buoni rapporti E quindi a questo punto Costituito questo Diciamo Piccolo Piccolo Patrimonio Perché tale è Adesso bisogna Iniziare a lavorare Su questo Perché altrimenti Adesso abbiamo Delle adesioni Dei nomi Però se restano là Restano fine a se stesso Allora invece oggi Dobbiamo iniziare A lavorare su questi Quindi cominciando A preparare queste persone Cominciando a dirgli E a spiegargli Quali sono i ruoli E le mansioni Che queste persone Devono avere Come si devono comportare Di fronte a talune Situazioni E quindi Oggi Sarà importante Che chi Lo fa In maniera Professionale Il controllo avvicinato Venga Lavorando con questo patrimonio A istruire Per iniziare Effettivamente Il controllo avvicinato Sul territorio Bene Allora io vi auguro Un in bocca al lupo Per questa avventura Che avete intrapreso assieme Lodevole Ecco E possiamo darci appuntamento A magari più avanti Per vedere come sta procedendo Certo Allora ringrazio i miei ospiti Grazie a voi Montanello di Ascom Coscommercio Grazie alla collaborazione Anche di Di Fabio Ferrazzo E di Confartigianato Grazie